Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti da in zuppa integrali. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina integrale, uova, olio di semi di girasole, latte parzialmente scremato, zucchero di canna, lievito per dolci, vanillina, essenza di mandorle e amaretto di saronno. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Ruiniamo sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungiamo l'olio, le uova ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina, il latte, l'aroma di mandorla, il lievito, la vanillina e l'amaretto di saronno. Facciamo amalgamare per un minuto in modalità spiga. L'impasto è pronto, andiamo a formare i biscotti. Adesso prendiamo una parte dell'impasto, formiamo un bastoncino, passiamolo nello zucchero di canna e posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno rigando la superficie con una forchetta. Una volta formati tutti i biscotti li andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dalla teglia. Biscotti da inzuppo integrali, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!